Buon pomeriggio, salve! Allora, adesso il test è che la prima persona che ripete tutti i cambiamenti, con tutti gli orari, con tutti i numeri corretti, vince un pallone d'oro da parte dell'organizzazione. Allora, un professore se non è pedante, e per fare il pedante inizio subito dicendo che è sdrucciolo, floridi, non floridi. Allora, in quanto sdrucciolo, cioè floridi, il mio compito sarà quello di tenervi allertate e allertati per circa un'oretta. Circa perché sarebbe bello avere un po' di tempo alla fine per qualche scambio di opinione, il cosiddetto Q&A, cioè domande e risposte. Farò del mio meglio, lì mi controlleranno, e se riesco a comprimere tutto quello che vorrei raccontarvi nel prossimo mezz'ora, 45 minuti, avremo tempo per un po' di interazione. Il tema si presta a divagazioni complesse, confuse, non ci si capirà nulla, molto facilmente. Allora, il compito del sottoscritto sarà quello di essere semplice, superficiale, comprensibile. Con questo introdurrei, tra pochissimo, ci saranno molte slides, quindi potete anche a un certo punto smettere di seguire il sottoscritto, basta guardare le figure. Ma introdurrei il concetto di filosofia per oggi, di metafora sulla filosofia ci si può divertire molto. La metafora che vorrei introdurre con voi oggi, dato anche quello che abbiamo avuto per pranzo, un vino bianco buonissimo, che consigliavo da qua, è un po', la filosofia a volte è un po' come il vino. Cioè, moltissimo, è cattivissimo. E soprattutto se avete assaggiato un bicchiere di vino di quello cattivo, nell'età sbagliata, magari al liceo, ci siamo intesi, poi astemi per tutto il resto della propria vita. Allora, io non vorrei che qualcuno tra di voi avesse bevuto del cattivo vino. Cioè, di quella filosofia un po' pasticciona, un po' confusionaria, che salsa la mattina e la dici in un modo, poi salsa il pomeriggio e la dici in un altro. Quella non è buona filosofia. Nello stesso senso in cui, sì, di vino ce n'è tanto, ma poi quando assaggi quello buono, allora lì ti ricordi che ha senso assaggiare il vino buono, bere quello buono e quindi fare della buona filosofia. Allora, l'ambizione sarebbe quella di fare un po' di buona filosofia con voi oggi. Se non ci riesco, prendetevela con me, non ve la riprendete con la filosofia. Eh, vabbè, l'ho fatto male io il vino, ma il vino resta una cosa buonissima. Allora, in questo contesto, filosofia informatica, filosofia digitale, pensare in rete. Quello che vi presenterò sono un po' di spunti per riflettere meglio, in maniera più attenta, un po' più critica, su quello che ci sta avvenendo sotto gli occhi. Quello che ogni giorno sta cambiando. Il digitale, e per questo intendo dire tutte le tecnologie che ci circondano, cambia moltissime cose, questo lo sappiamo tutti. Ma esattamente che cos'è che modifica il mio modo di pensare? Pensare rispetto a chi sono, pensare rispetto a come interagisco con l'altro, come concettualizzo il mondo e come interagisco col mondo. Quattro cose. Chi sono, come mi interagisco con gli altri, come interagisco col mondo e che cos'è il mondo. Ecco, questo è capito subito che sono discorsi da filosofo e quindi sono discorsi aperti. Sono domande alle quali non è che c'è una risposta che risolve il problema. Nello stesso senso in cui una ricetta non risolve un problema. Ci sono molte ricette con molti ingredienti, alcune migliori, alcune peggiori. Allora, in questo caso la filosofia non va confusa con la scienza, che fa progresso, perché la filosofia si sviluppa, certamente. Nello stesso senso in cui la cucina si è sviluppata. A chi non ci crede farei assaggiare una bistecca di mammut cruda. Allo stesso modo la filosofia si è sviluppata. Il che non vuol dire che come cuciniamo oggi sia necessariamente meglio di come cucina qualcun altro da qualche altra parte. Allora, basta con le metafore, parliamo un po' del tema, pensare in rete. E su questo, visto che parliamo di cucina, il menu della prossima mezz'ora o 45 minuti. Iniziamo con una parola, premessa. Tutta la presentazione, le slides, sono tutte in inglese. Dice perché? Perché sono pigro. Perché se no dovevo rifare tutte quante in italiano. E poi ho i miei studenti su, mentre voi l'inglese lo capite, i miei studenti queste cose non le leggono in italiano. Allora, perdonate la pigrizia da romano per le slides, tutte in inglese, tanne la parolina tedesca che ci vuole sempre. A filosofia un po' di parolina tedesca non deve mancare. Tanto poi, comunque, chiunque abbia giocato a filosofia o ha giocato con la squadra greca o ha giocato con la squadra tedesca. Tutti gli altri un po' serie B. Tanto per essere chiari, alla faccia di Oxford. Allora, la Urphilosophie, vi introdurrò questo concetto. Il concetto è semplice, sarebbe soltanto una parolina un po' complicata, ma è molto banale. È la filosofia che sta dietro alla filosofia. Quella filosofia che noi viviamo quotidianamente e non mettiamo in discussione. quella del, e ci mancherebbe, non fosse così. Ah, non ci avevo mai pensato. Ma guarda un po' come l'avevo vista e non me ne era accorto. Ve la dico un po' meglio tra poco. Ma questa è un po' la Urphilosophie. C'è la filosofia che sta dietro alla filosofia. Visto questo, scardinare questa vecchia filosofia che sta dietro alla filosofia, che è la filosofia che abbiamo editato dal passato, e rimpiazzarla con la filosofia che abbiamo oggi. Sempre in termini di presupposti che stanno dietro. E quindi passare da una filosofia delle cose a una filosofia delle relazioni. Anche questo ve lo spiego bene, ma intanto tenete un po' a mente quest'idea. Cioè noi il mondo lo concettualizziamo come cose. E facciamo male. L'abbiamo fatto così per tanti millenni. Ma pensare in rete ci spinge a pensare sempre di più al mondo in termini di interazioni e relazioni piuttosto che di oggetti. A quel punto introdurremo, o introdurrò per voi, il cambiamento fondamentale che il digitale sta operando con noi. Ma perché oggi c'è una filosofia che si occupa del digitale e non si occupa, che so, di una filosofia del motore a scoppio? Beh, è importante anche lui come tecnologia. Il motore a scoppio non ha cambiato la ur-philosophie, cioè i fondamenti concettuali che ci permettono di capire il mondo, come invece sta facendo il digitale. Siamo sicuri? Beh, il punto 3, cercherò di dimostrarvelo. Cleaving in inglese è particolarmente utile perché è una di quelle paroline che genera confusione. Ve lo dico subito così la confusione dovrebbe sparire. Cleaving to cleave in inglese vuol dire separare o incollare. Comodo. Dici, questa sera che facciamo? To cleave? E dice, oddio, ma detto che non ci vediamo oppure che c'è da che sperare? Ecco, to cleave, purtroppo sono due parole tedesche che si sono incrociate e hanno finito per essere con lo spelling che gli inglesi fanno sempre a casaccio, come gli pare a loro. Questo to cleave ha finito per dire due cose insieme. E in una parola sola, cut and paste, che purtroppo in italiano si traduce in copia e incolla e non funziona. Perché il copia e incolla dovrebbe essere copia, no, e taglia. Allora, da questo poi un momento più serio. Diciamo, va bene, ma tutta questa cosa cambia la filosofia profonda, cambia perché c'è questo copia e incolla, o meglio, no, cut and paste. Ci sta cambiando un po' il mondo. Alcuni esempi, così capiamo che non stiamo parlando di cose un po' sciocche, ma a me che differenza mi fa oggi? Quattro differenze che collegherò al potere. Potere nel senso quello serio, cioè quello che determina la propria vita, la democrazia, chi gestisce cosa, chi controlla cosa. E la controparte. Se il digitale taglia e incolla cose che noi non abbiamo mai tagliate e incollate in quel modo, e questo è un po' un problema, ma è anche una grande opportunità, se noi possiamo tagliare e incollare, possiamo anche ridisegnare quello che abbiamo tagliato e incollato. Ecco perché la nostra età è l'età del design. Cioè il XXI secolo è l'epoca del design. Rispetto a cosa? Rispetto all'epoca dell'invenzione. O all'epoca della scoperta. Ma su questo sto anticipando e ci arriveremo. Conclusione, e finalmente potrete respirare, perché alla fine questa cosa sarà stata estenuante. Va bene? Allora, Urphilosofi. Questo è Cassio. Questo è Shakespeare, quindi l'inglese ci vuole tutto. E dice, atto 1, Scena 2. Cassio ha brutto. For the eye sees not itself by the reflection, by some other things. Lo diceva già Shakespeare. Quando voi sentite qualcuno furbino, ah, l'occhio non vede se stesso, guarda che è vecchio come Shakespeare, e Shakespeare l'aveva già preso da qualcun altro. Cioè questa idea che l'occhio non vede se stesso, vuol dire che noi, quando nel nostro modo filosofico di guardare il mondo, non ci rendiamo conto della prospettiva che stiamo adottando. Ora qui Cassio sta facendo un po' il cattivello, con brutto, per convincerlo. Poi sapete che finisce male, è qui la storia. Non voglio rovinare a nessuno, insomma. Però, no. Casomai qualcuno dice, poi ce lo dice alla fine. No. La storia non finisce bene. Poi per uno di Roma, ci mancherebbe che non lo sapessimo come finisce qua. Però questo ricordatelo perché tra 45 minuti, tra 35 minuti, 35 mi dicono qui, taglia che stai andando. Tra 35 ci ritorniamo sopra. Allora qui, l'occhio che non vede se stesso. Allora come si fa a vedere l'occhio che non vede se stesso? Bisogna capire, l'informazione vede se stessa? Sì e no. Allora qui dobbiamo introdurre un po' un meccanismo. Immaginate che Cassio sia informato perché ha queste due cose. Adesso vediamo senza cercare nessuno. Ha queste due cose. Ha la Q e la A, e quindi ha l'informazione. Cioè ha una domanda, ha una risposta, e quindi ha l'informazione. Qual è la capitale della Francia? Parigi. Bingo. Ho l'informazione. Parigi è la capitale della Francia. Parigi è la capitale della Francia? Si divide in qual è la capitale della Francia? Più Parigi. È tutto scritto lì. È semplice. Questa è l'informazione. Va bene. Quindi Cassio è informato quando ha la domanda e la risposta. La risposta deve essere corretta, deve essere rilevante, eccetera. Le cose si fanno complicate, ma l'idea è semplice. E quando è che Cassio è incerto? È incerto quando ha soltanto la domanda. Qual è la capitale di Berlino nel 1999? La capitale della Germania. Berlino, sarà già unificata? Non mi ricordo. Andiamo a controllare. Se uno ha soltanto la domanda ma non ha la risposta, quello è l'incertezza. E che succede se tolgo anche questo? E sei ignorante. Brutta bestia che non sei altro. Vuol dire che non ti poni neanche la domanda. È l'occhio che non vede se stesso. È l'ur filosofia che non realizza chi sta pensando cosa. Cioè io sono talmente immerso nella mia bolla che non mi rendo neanche conto che mi sarei dovuto porre la domanda. Ma questa bolla c'è e non c'è come sto pensando. Ci siamo. Il giochino è semplice. Quindi eliminare le domande vuol dire ignoranza, vuol dire stare dentro la prospettiva che non riesco a comprendere. A questo punto possiamo mappare tutto quello che c'è lì. Immaginare tutto il sapere dell'universo e del mondo una Wikipedia 2.0 in tutto quello l'informazione disponibile a sinistra. Sono tutte le domande tutte le risposte che forniscono tutta l'informazione. La dividiamo poi in tanti quadratini. Lo sapevo che poi diventava difficile e lo so. Non è che poi alla fine il divertimento è finito qua. Adesso bisogna lavorare. uno c'è la parte alla quale Cassio ha accesso alla domanda e alla risposta. Questa è la sua informazione. È tutto quello che c'è in tasca. Va bene. Poi c'è una parte non vorrei privilegiare soltanto no una parte c'è una parte poi qui in cui Cassio ha soltanto accesso alle domande. Ma quanto mi costa questa medicina? Non lo so. Incertezza. La domanda ce l'ha ma non ha la risposta. E poi c'è la parte sotto quella sopra è tutta l'informazione potenzialmente disponibile a Cassio. Domande e risposte o solo domande per le quali lui sta cercando le risposte. Bene. C'è come l'ammazziamo Giulio Cesare? Punto interrogativo. Poi c'è tutto quello a cui lui non ha proprio accesso né alle domande né alle risposte. Quel muro sotto la sua ignoranza. Ora Cassio lo sa qual è la sua ignoranza? Ovviamente no perché altrimenti avrebbe la domanda. L'occhio non vede se stesso. Lo ricordate? Bene. Come facciamo quindi ricordate un filosofia ma il digitale come ci cambia il modo di pensare come facciamo a passare quel muro? Come facciamo a passare da sopra a sotto? Come facciamo a passare da uno stato di informazione o incertezza invece di uno stato di ignoranza? Qui la risposta classica è bisogna pensare fuori dal box che è una scemenza che gira ovunque c'è think out of the box ma fuori dal box c'è soltanto il nulla. Allora quello che si può fare non è pensare fuori dal box è cambiare box allora sì nel senso tu hai un quadro di riferimento fuori da quel quadro non c'è nulla se non altri quadri di riferimento cambiare quadri di riferimento aiuta cambiare prospettiva questo è per questo che fa comodo averci gente che viene da altri paesi oddio perché hanno una prospettiva diversa la vedono diversamente chissà come cucinano chissà come la pensano esci dal tuo box entri nel loro cominci a vedere le cose diversamente allora non si può uscire dal box ma si può cambiare box cambiare box significa fare un po' questo nella nostra filosofia attuale chiamata la filosofia newtoniana il mondo è fatto di cose e queste cose si collegano tra loro come se fosse un lego o come se fosse un meccano cose che lo so che non ci giocate più da tanto tempo però insomma andate un po' con la memoria 30 anni fa 40 cioè piccole cose si collegano tra loro e si completano dal basso verso l'alto i rapporti sono tipo meccanico e questo è un po' il mondo come lo vediamo ordinariamente in realtà noi ormai stiamo scivolando verso un primato delle relazioni e che cos'è una relazione? è quello che intravviene tra una cosa e un'altra allora non è più che c'è la cosa A e c'è la cosa B e poi c'è la relazione tra A e B come ci viene spontaneo come è impossibile non pensare appena siamo usciti da questa stanza c'è la sedia ci sono io e poi c'è io che sto seduto sulla sedia non è che c'è la sedudità che connette me e la sedia lo so che ci sono dei matematici qui che questa cosa la capiscono subito ma al di là della matematica e della fisica che qui ci è arrivata cent'anni fa noi nelle scienze sociali nel nostro modo di pensare prima pensiamo alle cose e poi alle relazioni tra le cose in realtà il digitale ci sta spingendo sempre di più a pensare al mondo fatto di relazioni e quando le relazioni si incrociano lì che c'è la cosa allora la cosa l'entità diventa una sorta di nodo dove le varie relazioni interagiscono fai sfaldare le relazioni e quella cosa via via svanisce la differenza tra nonna vera e il fantasma di nonna è che con il fantasma di nonna non ci puoi interagire il momento in cui tu cominci a interagire con il fantasma di nonna è un po' meno fantasma e come mai perché c'è una relazione di azione e reazione è quello che la concretizza questo mi sembra un po' difficile non c'è un'analogia qui che mi può aiutare eccola qui l'analogia allora voi pensate a una rotonda l'inglese su questi sono dei maestri il roundabout l'hanno inventato loro cioè proprio gli piace se c'è modo di mettere un'altra rotonda invece di un semaforo ecco la rotonda non è che a meno che non si sia a Roma in qualche ufficio di matti normalmente non è che uno prima mette le rotonde e poi fa le strade no? non funziona così ecco diciamolo anche lì all'amministrazione romana locale prima fai le strade poi lì dove le strade si incrociano le strade uguale a relazione lì crei la rotonda allora la rotonda è un nodo che emerge dalle varie strade togli le strade non c'è più rotonda sparisce la rotonda allora la rotonda non esiste chi te l'ha detto? hai mai provato ad andare dritto per una rotonda? vedrai quanto esiste il fatto che però chi viene prima e chi viene dopo è fondamentale allora voi immaginate che il mondo si stia trasformando da un mondo newtoniano in cui prima le rotonde poi le strade a un mondo che pensa digitalmente in relazioni prima le strade e poi le rotonde cioè prima vengono le relazioni e poi i nodi e non vengono prima i nodi e poi le relazioni ah interessante questa cosa e allora e allora qui c'è un sacco da fare questo vuol dire ribaltare moltissime cose e se siete tutte tutti più o meno non convinti ma avete le idee chiare su quello che ho detto non dovete essere d'accordo però siamo tutti sulla stessa pagina io non sono affatto d'accordo però ho capito questo è sufficiente per me sarei anche contento se fossi d'accordo ovviamente ma insomma questo è un di più sul quale posso anche venire meno allora vediamo l'effetto che vuol dire avere prima le relazioni e poi i nodi invece dell'altro modo che cambia cambiano tantissime cose e questo che adesso vi farò vedere ci mettiamo 15 minuti anche un po' meno è una carrellata di fenomeni che voi leggete sui giornali e che io spero di spiegarvi con questo meccanismo il meccanismo è da Newton al digitale dal meccanismo al network il meccanismo è una cosa che tu corrisci dal basso ogni pezzo boom 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 il network lo costruisci nella tua proprietà e poi vedi come è costruito dalle cose alle relazioni fin qui ci siamo più o meno questo è il nostro cambiamento di filosofia di profonda vediamo che succede questo ve l'ho anticipato il digitale fa tutto questo tagliando e incollando cut and paste cose che noi non abbiamo mai concepito nella nostra cultura attuale come tagliabili e non abbiamo mai concepito come incollabili cioè sono sempre state pensate come separate e il digitale ce le incolla teoria relazionale oppure le abbiamo sempre pensate come incollate e invece il digitale arriva lì con le forbici e ce le separa dice alla fine questa una cosa concreta ce la dice oppure no eccola arriviamo presenza e localizzazione questo il digitale le ha separate oggi io sono presente magari qui e localizzato o meglio viceversa sono localizzato geograficamente in un posto tant'è vero che il mio iphone dice esattamente dove sto le coordinate ma non ha presenza ma io sono su facebook ma io sto interagendo con qualcun altro per mio nono presenza e localizzazione è la stessa cosa non sono separabili tu zappi dove c'è il terreno e dove c'è il terreno stai zappando non è che puoi stare in un posto al bar e intanto fai casino su facebook allora dice e chi se ne frega no perché la maggior parte delle nostre aziende banche incluse sono state pensate in un periodo in cui presenza e localizzazione erano la stessa cosa inseparabile allora la maggior parte del mondo ancora pensa come questo dollaro antico questo è degli anni 20 la scritta qui non la potete leggere questa qua piccolina che sta qui e quindi ve la faccio un po' più grande c'è scritto la parola magica redeemable il che vuol dire che io vado alla banca e me lo faccio cambiare in termini di gold oro questa trasformazione di dollari in oro oro in dollari vuol dire che non è possibile che io faccia questo giochino separando presenza e localizzazione perché devo andare in banca cioè io per avere l'oro devo andare lì con i miei dollaroni e prendere il materiale fisico non è più vero da tanto tempo e questo è il grafico della chiusura delle agenzie di banca negli Stati Uniti stanno chiudendo tutte perché non c'è più bisogno dell'agenzia l'agenzia è stata pensata per localizzazione e presenza come un tutt'uno se pari non c'è più bisogno di quel luogo l'agenzia di banca è stata pensata come anche il negozio di scarpe come un luogo che è organizzato intorno alla presenza ma la presenza io ce l'ho online adesso il banking lo faccio online che ci vado a fare l'agenzia il digitale ha separato relazioni problemi seri di ridistribuzione eccetera eccetera e allora un'altra separazione questa è una mappa antichissima 1648 guerra dei trent'anni infinita sistema di Westfalia considerate che è quello che avviene tra la fine dei tre moschettieri e vent'anni dopo ve lo ricordate la fine dei tre moschettieri finisce con Richelieu e con la corazza sta facendo la guerra contro gli ugonotti guerra dei trent'anni eccetera quando si rivedono vent'anni dopo la pace di Westfalia è avvenuta allora alla luce dei tre moschettieri abbiamo raggiunto in Europa 400 anni fa più o meno ci abbiamo messo milioni di morti fame distruzione per arrivare alla seguente fondamentale risoluzione a casa mia le regole mie a casa tua le regole tue questa è Westfalia cioè senza Francia in Francia si fa così in Germania si fa colà e basta questo funziona bene se non c'è il digitale il digitale questa sovrapposizione tra legge territorialità della legge e limiti di dove la legge arriva le ha completamente separati quando avete seguito il dibattito sul digitale e il diritto all'oblio la Francia non ha potuto dire a Google di togliere i link dal search engine su google.com li puoi togliere da google.fr benissimo e a che serve quando google.com sta a un passo un click di distanza separazione un mondo diverso il sistema westfalico di sovrapposizione tra spazio politico e spazio legale è saltato non abbiamo un sistema diverso non è che ci abbiamo ah per fortuna adesso ci abbiamo il tappabuco no il buco c'è e sta uscendo l'aria da questa delle ruote del nostro sistema possesso e uso ABN Uber Facebook quanti ce ne sono non hanno nulla eppure puoi usare il possesso e l'uso sono stati scollati questa è una cosa già da vecchio tempo che facciamo eppure il digitale li ha completamente scollati posso usare quello che non possiedo e posso possedere cose che non uso non è una completa diversa la zappa di prima o ce l'hai ed è tua e la usi oppure no vi ricordo che il concetto di ownership di possesso è definito in termini di limitazione dell'uso altrui di ciò che hai tu possiedi qualcosa perché puoi limitare altri il suo uso uso e possesso no link non più intelligenza e agency questo è un documento che non possiamo trattare a lungo alcuni di voi spero saranno molto dispiaciuti di quello che dico ma in realtà qui il digitale non ha creato un matrimonio ha fatto un divorzio abbiamo e stiamo sempre più divorziando la capacità di fare qualcosa con successo dà la necessità di essere intelligente è per questo che l'intelligenza artificiale funziona è perché non devi essere intelligente per farlo che quell'oggetto funziona perché se avesse dovuto essere intelligente non avrebbe vinto a scacchi è perché quell'attrezzo che ho lasciato lì l'iPhone vince chiunque in questa stanza a scacchi proprio perché è stupido come un oca o meglio come il frigorifero di mia nonna se avessimo potuto aspettare che quell'oggetto diventasse troppi anni a Oxford congiuntivi diventasse intelligente per realizzare quel prodotto vincerei sempre allora l'intelligenza artificiale è la scissione tra la necessità di essere intelligente e la capacità di avere successo nel fare qualcosa è brutto è brutto sì perché tante cose che facciamo non richiedono intelligenza ma il povero casellante all'autostrada lo vogliamo sostituire con un sistema di intelligenza artificiale perché sinceramente quel lavoro non è molto gratificante però abbiamo anche unito produzione e consumo il digitale li ha riunificati non vi dico perché la doppia crocetta perché non abbiamo tempo ma quando sono su YouTube io sono produttore e consumatore degli stessi oggetti è il modo in cui ovviamente il content che è user provided è fondamentalmente il grande business di oggi io non faccio niente metto la piattaforma sono Facebook tu metti le cose con le guarda e io faccio soldi meccanismo non male autenticità e memoria blockchain questo blockchain non se ne può più in Italia si parla soltanto di blockchain vi assicuro che fuori dall'Italia se ne parla molto meno però anche con tutta la RAI che parla soltanto di blockchain dalla mattina alla sera perché è interessante perché il digitale ha ecco ve lo dico il blockchain fa bene l'entusiasmo però adesso proprio anticipare così ci siamo vestiti d'accordo in realtà per far vedere che c'è attenzione nella classe allora che è blockchain il blockchain è questo modo che in passato il digitale ha scollegato l'autenticità dalla memoria tu avevi due files uno la copia dell'altro qual è l'autentico boh è una copia è identico non lo so chi è l'autentico oppure no immaginate un quadro la Mona Lisa e la copia della Mona Lisa lo so benissimo qual è quello autentico ma dei due files uno vale l'altro blockchain è una specie di registro di tutte le operazioni che tu hai fatto su quell'oggetto non modificabile e che si accresce di volta in volta è come se tu avessi un costante immaginate di girare con un librone e ogni volta che questa bottiglia passa di mano in mano va con un libro che dice l'ha presa Luciano l'ha bevuta Mario l'ha riempita e questo librone che è la catena di blocchi che si accumula è questo blockchain ma blockchain che cosa fa reintroduce l'autenticità perché come mai tutte le aziende ad esempio anche quelle agricole della produzione alimentare sono interessate perché ti sanno dire esattamente guarda quel pelato lì che stai mangiando la blockchain cioè il registro ti dice che è venuto da quel campicello lì sicuro? sicuro non attaccabile rigoroso e quindi ha riagganciato autenticità e memoria memoria nel senso di prodotto digitale tu sai esattamente che quello è originale e quello no chi lo dice? la blockchain e che è la blockchain? il registro delle operazioni come è nato e come ci è arrivato lì poi la distinzione analogico-digitale anche qui ormai ci siamo fusi non c'è più questa distinzione nessuna parte noi viviamo in realtà in questa specie di infosfera in cui l'analogico-digitale sta un po' a braccetto basta prendere l'automobile il gps ci porta di qua e di là analogico-digitale un po' tutte e due ormai le automobili sono dei grandi computer su ruote è lì che fa la differenza e quindi tra l'analogico-digitale non c'è più tanta differenza la stessa cosa avviene per l'identità personale noi oggi in Europa ci descrive come testualmente data subjects cioè noi siamo cittadini sì ma soprattutto siamo data subjects cioè soggetti di dati fatti di dati capite che qui l'idea tra identità chi sono e l'informazione che mi caratterizza oggi è diventato un blocco unico ma per mia nonna non era così lei non era l'informazione che la caratterizzava erano le amiche che aveva le persone che incontrava i desideri le aspettative era tutt'altro non soltanto quel blocco di informazione ma noi però noi oggi identità uguale informazione informazione uguale identità e poi quest'altra cosa ma sei online o sei offline sei degli anni 90 perché chi è che oggi diciamo il teenager attuale oggi si fa quella domanda non se la fa mai i miei ragazzi però non la capiscono cioè boh chissà che ha detto il professore online offline cinquantene sai un po' perché viviamo ormai on life in questo modo diciamo comune di combinare allora quella figura che vi ho fatto vedere prima dove c'erano tutte quelle mangrovie nell'acqua ecco analogico digitale fusi online offline fusi ah allora c'è solo quello no dov'è che nascono le mangrovie le mangrovie io l'ho dovuto guardare su wikipedia perché non lo sapevo che poi alla fine i filosofi si occupano di queste cose però se uno va a cercare le mangrovie nascono lì dove il fiume incontra il mare e quell'acqua salmastra è un po' salata e un po' dolce chiedersi oggi nella società attuale qui tra di noi ma siamo online siamo offline analogico digitale è come se voi chiedeste lì dove nascono le mangrovie ma è salata o dolce non hai capito dove sei cioè guardati intorno cioè sei tra le mangrovie cioè una società che si sta sviluppando un po' caotica un po' a giungla ed è bene che ti dà una svegliata non è nell'uno nell'altro è un po' tutte e due ma allora c'è soltanto il salato sì certo e c'è soltanto il due sì certo ma c'è soltanto l'analogico e basta sì è che non fa importanza e non è dove stiamo vivendo noi viviamo sempre più tra le mangrovie domani articolo sui giornali ci ha detto il professore viviamo tra le mangrovie uno di Oxford ci sperano loro che prima o poi forse di riscaldare l'ambiente arrivano pure le mangrovie da noi allora questa è la lista di cose che vi ho fatto vedere ce ne sono molte altre e sono sicuro che voi potete pensare ad altre cose in cui stiamo incollando e scollando incollando e scollando cose fondamentali che con quelle noi abbiamo vissuto in ur filosofii cioè come presuppuzione come occhio che non vede se stesso per tutta l'epoca moderna allora la modernità è caratterizzata da una ur filosofii che è di tipo meccanicistico e basata su oggetti la postmodernità è una ur filosofii che è basata su il digitale e il pensiero a network dove le relazioni sono più fondamentali ontologicamente degli oggetti ecco se fossi partito così sarebbe stata più in salita però adesso questo è chiaro è semplice si capisce ditemi che si capisce va grazie allora che succede sempre che io guardo qui la regia che succede che abbiamo ancora quei venti minuti che succede quando tutto questo bel meccanismo perché questo è per le persone più giovani tra di noi soluti liceali la filosofia fa sempre così è la buona filosofia è come altra analogia come a pesca tu prima lasci l'amo poi tiri tiri piano piano finché non ha boccato poi quando ha boccato zoom uno bello strattone adesso che abbiamo la terminologia la prospettiva abbiamo capito un po' di idee abbiamo capito che non stiamo scherzando una cosa seria soltanto il sistema bancario sta investendo miliardi nella ricostruzione del network delle banche quindi non è dice ah boh una cosa o l'altra capire i fondamenti di dove stiamo andando significa essere in grado di cambiare direzione se non ti piace dove stai andando e questo modo di ragionare è la filosofia che prende la rincorsa per saltare in alto più avanti tanto più ampio il baratro tanto più lunga la rincorsa diciamo professore il problema è lì esattamente proprio perché il problema sta lì ed è grosso allora questo ce lo siamo un po' chiarito che succede quando tutto questo lo prendiamo lo trasformiamo in capitolo 1 e muoviamo la discussione sul capitolo 2 c'è un capitolo 2 e c'è il capitolo 2 il capitolo 2 è che succede quando tutto questo lo prendiamo e lo applichiamo a se stesso perché vi ricordate l'occhio che vede quei giochini che no alcuni pensano siano furbi ma in realtà le impari al primo anno di filosofia non vi fate fregare perché il pensiero furbo va evitato e in Italia ce n'è di pensiero furbo allora che succede quando il potere di tagliare e incollare si applica al potere che introduzione qua che abbiamo allora quattro casi caso numero uno l'Europa l'Europa quella dell'Unione quella blu con tutti gli altri che vorrebbero esserci e quei scemi di inglesi che se ne vogliono andare perché il suicidio è così cioè tu ti butti voi dalla finestra pensando che appunto di volare l'Europa l'abbiamo costruita sul concetto rispazio newtoniano gli accordi di Copenaghen poi ripresi da Maastricht ti dicono possono diventare membri dell'Unione europea su paesi europei e la cultura? no la cultura non conta ah non conta e scusa la vedete quella freccia tutti quanti bene quella lì è Cipro Cipro è diventata membro dell'Unione qualche tempo fa se guardate sull'Atlante quello dei Agostini quello cartaceo lo sapete dove sta Cipro? Asia allora Cipro va bene perché va bene? ma perché Cipro culturalmente appartiene all'Europa allora non è una questione di oggetti entità cose paese costruzione Westphalia è una questione di relazioni cultura giusto io sono d'accordissimo ma allora se ci sta dentro Cipro ci possiamo mettere anche altre cose questa è dove la mette la mappa Cipro è quella freccia lì nell'Asia l'abbiamo inserita in Europa giustamente e io sono d'accordo ma allora dovremmo farlo più spesso tutte quelle cose verdi che vedete lì anche quelle culturalmente potrebbero stare in Europa allora quando uno dice sai che facciamo ma il destino dell'Europa ma il destino dell'Europa è un destino culturale non è spazio non è che siamo arrivati fino lì lì poi c'è il mare ci fermiamo e che c'entra? allora un paese come il Canada potrebbe diventare un membro della Unione Europea dove Unione Europea è la nostra capacità di dettare al mondo la nostra civiltà l'abbiamo fatto violentamente in passato oggi lo facciamo mostrando che è una civiltà migliore non è un caso che vogliono venire tutti qui a casa nostra nel senso non è che se ne vanno mica in Islanda allora l'idea di fondo qui è spazio cultura cut and paste il digitale oggi dovrebbe farci rendere conto che un paese come il Canada è più vicino a noi di quanto ad esempio non lo sia la Russia ma la Russia è rossa in Europa e pazienza mentre il Canada che sta dall'altra parte dell'Atlantico è più vicino a noi potrebbe essere tant'è vero che se ne è discusso in passato potrebbe essere una buona idea poi punto numero due ma tutto questo questa era geografia spazio per prendere quell'argomento altro paragrafo del secondo capitolo e per quanto riguarda il potere di controllo allora per chi si ricorda Orwell 1994 1984 a un certo punto c'è una bellissima frase chi controlla il presente controllo il futuro controllo il futuro controllo il passato io qui l'ho ripresa e l'ho rimessa in maniera un pochino più attenta per adattarla ai nostri tempi ma la morfologia del potere oggi è la morfologia dell'incertezza che è l'incertezza mezz'ora fa ce l'ha detto non mi sono scordato vi ricordate informazione domanda risposta uguale informazione che è l'incertezza soltanto le domande allora il potere quello grigio quello che controlla il potere quello che sta dietro al potere ha esercitato il potere su chi il potere poi lo esercita a sua volta prima attraverso il controllo delle cose la Fiat in Italia tanto per essere così un po' espliciti poi è passata a controllare le informazioni sulle cose non mi dire che non viene venuto in mente nessuno la Fiat passa e arriva Berlusconi ma oggi non è più l'informazione sulle cose che influenza il potere non sono certamente la produzione delle cose è chi produce l'informazione ma chi era l'informazione domanda più risposta e come faccio a produrre questa controlla la domanda allora chi controlla la domanda da forma le risposte e chi da forma le risposte controlla il mondo non sarà mica Google qua perché questo è il meccanismo e quando chi ti dice quali domande puoi fare come quando e quali risposte ricevere in un mondo digitale avete capito che il potere che ha è immenso dice ma fino a noi è andato tutto bene e che è una strategia cioè finger cross cioè tipo boh speriamo bene non è una strategia ci vorrebbe un intervento socio politico ma è un altro argomento un altro giorno arriviamo al quarto punto e qui purtroppo qualcuno di nuovo resterà scontenta o scontento però si fa filosofia anche diciamo in termini di divergenza di opinioni quindi chi adesso si dispiace non si dispiace troppo e magari entri in dibattito questi sono i tre modi in cui si descrive la democrazia procede al ruralismo la democrazia qualunque cosa sia è una questione di regole qualunque le siano le regole se è una democrazia queste sono le regole se queste regole e poi ce le vediamo insieme ma è una questione di regole non funzionano non è una democrazia poi c'è il sostanzialismo che dice no 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 le regole sono importanti ma è una questione di valori non le regole ma i valori fondamentali che poi ci vediamo ma se questi valori non sono rispettati non è una democrazia e questi due regole o valori hanno discusso per parecchio tempo c'è poi una terza cosa che vi fornisce il vostro filosofo di turno qui oggi dice no non è una questione di valori né di regole che vengono dopo è una questione di struttura di fondo la democrazia nasce quando strutturalmente vi ricordate scollamento noi scolliamo il possesso del potere dal suo esercizio e per chi pensa che sia una bella cosa attenzione perché io ho appena detto che la democrazia diretta non è una buona democrazia com'era questa cosa aspetta un po' un attimo allora regole valori ma sotto una prima iniziale di separazione tra chi il potere ce l'ha e chi il potere lo esercita chi lo esercita non ce l'ha non è possessore lo deve ridare indietro se funzionano male le cose e chi ce l'ha non lo esercita perché se no si chiama dittatura della maggioranza non si chiama democrazia allora capite che se qui per caso ci fosse un qualche accenno a un qualche partito italiano che fa invece della democrazia diretta una battaglia democratica ecco io sto dicendo che hanno ragionalmente torto marcio in questo contesto noi purtroppo il digitale c'è un po' chiamato il blef è dal 1861 questo è Stuart Mill considerazioni sul governo rappresentativo la frase in inglese dice dal 1861 quanto sarebbe bello se vivessimo in una cittadina piccola dove tutti si occupassero di democrazia direttamente tutti gestiscono l'informazione sanno quello che succede decidono e alla fine arriviamo a una una politica che è di tipo unanime un po' come se tu siamo ad Atene purtroppo non si può fare perché siamo tanti questo è John Stuart Mill e allora ci vuole la democrazia in diretta quella rappresentativa ma se soltanto ci avessimo modo dal 1861 fast forward un centinaio d'anni e dice eccola qui adesso mi fai vedere perché io adesso ti do la tecnologia lo puoi fare diciamo una cosa detta agora elettronica ti permette esattamente di fare questo se vuoi puoi fare esattamente quello che John Stuart Mill diceva sarebbe stato bello fare se soltanto fossimo stati in grado di farlo ma adesso siamo in grado di farlo chiamiamo il blef e il blef non ci piace perché John Stuart Mill aveva torto è la miticizzazione di un Atene che non è mai esistita vi ricordo che Atene ha ammazzato Socrate e quell'Atene non è un'altra è la stessa Atene del V secolo allora quell'Atene lì erano in quattro gatti quattro famiglie che potevano votare solo gli uomini solo quelli che potevano portare le armi il resto erano donne schiavi stranieri pizzettari gente ricordata no me ne frega robaccia allora siamo sicuri che proprio quella la democrazia non è detto che siccome siamo partiti col primo passo fatto bene tutte le volte dobbiamo tornare al primo passo abbiamo fatto dei passi avanti il passo avanti è capire che e questo lo dicevano già i padri dei fondamenti della democrazia americana che la dittatura della maggioranza non è una democrazia è una distorsione allora come faccio ad assicurarmi? devo assicurare che chi il potere ce l'ha non lo eserciti direttamente e chi poi lo eserciti non ce l'abbia il problema è che questo meccanismo oggi non funziona bene ed è qui che dovremo lavorare cioè in una democrazia rappresentativa che faccia esattamente questo cioè che chi lo esercita ce lo ridia a noi che abbiamo la sovranità quando le cose non funzionano cosa che invece la casta eccetera eccetera non funziona ma si è impicciato un meccanismo buono non è da buttare via tutto il meccanismo ultima cosa progetto umano tutta la vita abbiamo messo insieme capitalismo e consumismo una stessa cosa poi faccio della stessa medaglia non è così non è detto che il consumismo e il capitalismo debbano vivere l'uno con l'altro il capitalismo genera capitale quindi ricchezza e può andare benissimo mano nella mano con la protezione e quindi con la cura per il mondo non è detto che grazie al digitale noi potremo scollare il capitalismo dal consumismo e collegarlo invece non al consumo del mondo ma alla protezione del mondo ci rivediamo magari un'altra volta perché su questo c'è molto da dire ma capite che qui di implicazioni sono molte siccome stiamo arrivando alla fine e dov'è la nostra qui che ci sta controllando dice va bene ultimo punto adesso sapete che cos'è la urfilosofia l'occhio che non vede se stesse eccetera tutti quegli esempi di uscita da una mentalità diciamo chiamiamola newtoniana per entrare pian piano in una mentalità più digitale più diciamo fatta a network abbiamo visto un po' questa capacità del digitale di scollare e incollare domani quando rileggete il giornale dice ma stanno incollando o stanno scollando perché io l'unica cosa che mi ricordo è questa ma attacca o stacca e vi assicuro che questo aiuta molto a capire dove stiamo andando vi ho fatto vedere quattro casi in cui questo si applica cioè il potere di incollaggio e scollaggio di attaccare e staccare si applica a se stesso e al potere stesso e dice ma allora che possiamo fare noi siamo tanto questo treno che ci porta verso il futuro no qui c'è da essere un po' ottimisti c'è il concetto di design che è fondamentale il design è la controparte del punto numero tre cioè della separazione e dell'incollaggio immaginate di essere in un universo sei solo tu non c'è nessuno l'universo è vuoto e c'è una pietra davanti a te non si sa bene come galleggiate nell'universo ma insomma una cosa un po' l'immaginazione tu è una pietra che design si può fare niente te la guardi ci giochi la tiri ma design non si può fare immaginate invece che delle pietre ce ne siano tre allora si può cominciare a fare qualcosa ci sei tu ci sono tre pietre una sopra l'altra una accanto all'altra una dopo l'altra cambi il gioco le tiri per aria allora il design è fatto di sempre più elementi che abbassano le costrizioni e aumentano le possibilità in questo abbassare le costrizioni e aumentare le possibilità il design ci guadagna non è un caso che oggi abbiamo più design di quanto non ce l'avessimo quando c'è la pietra sola e pim pom pim pom no allora in questo caso qui il mondo va avanti e da sempre andrà avanti in termini di innovazione con con tre modalità queste tre modalità sono mescolate come in cucina non è che sono una l'una o l'altra no è un po' una torta in cui tutte e tre contribuiscono ma a volte ha contribuito di più l'invenzione cioè innovazione come la ruota nessuno ci ha pensato allora poveretto a metterci controllo legale cioè d'ora in poi se fai una ruota mi dai 5 lira a me sarebbe ricco se soltanto avessi avuto questa bella idea quindi l'epoca delle invenzioni è questa e ovviamente di volta in volta nell'umanità siamo andati avanti indietro per esempio tutta l'epoca industriale della rivoluzione industriale inglese cioè è un'epoca di invenzioni poi la innovazione è fatta anche ricordo la torta tanti ingredienti anche di scoperta questo in termini diciamo di economia è il miglior return on investment mai avuto da qualunque investimento gli hanno dato 4 soldi quello ha scoperto l'America in termini di quello che ha ricavato dall'input è micidiale d'altra parte però erano milioni tradotti erano milioni di dollari che stava chiedendo Colombo tradotti oggi è come se io un matto arrivasse qui e dicesse al prossimo governo italiano mi date 15 milioni di dollari per far cosa però da una parte sei sicuro? no ci arrivi? non lo so tutti dicono che non ci arrivi sì ci vuole coraggio a dargli 15 milioni di dollari a poi il poveretto quindi non è stato facile per chi gliel'ha dati però ha aperto un mondo di innovazione incredibile poi però c'è qualcuno che inventa questo l'innovazione la fa attraverso il design meno costrizioni più opportunità mettere i pezzi insieme ottenere risultati ai fini di un della realizzazione di uno scopo di risolvere un problema che non è mai stato fatto prima allora tutti e tre insieme fanno una specie di sgabbello ma questo sgabbello ha una gamba un po' più importante a seconda dell'epoca storica ci sono epoche dell'invenzione ci sono epoche della scoperta e ci sono epoche del design oggi ho cercato di farvi vedere che siamo nell'epoca del design la nostra epoca è l'epoca del design e quindi dovrebbe essere come epoca del digitale in quanto design un'epoca del design buono dove tutte le cose che vi ho fatto vedere vengono fatte nella direzione giusta e con questo arriviamo alla conclusione ve l'avevo detto che tornava vi ricordate Cassio? allora tutto questo noi che cosa possiamo fare su questo? lo dice bene Cassio a Bruto che stava cercando di convincerlo a fare quella cosa brutta con Shakespeare gli uomini a volte sono maestri del loro fatto il problema caro Bruto non è con le nostre stelle ok ma è noi che siamo degli schiavi se non volete essere schiavi fare due passi indietro pensarci meglio fare un po' più di buona filosofia per un filo di gran lunga di gran lunga migliore e cambiarlo con un po' di buon design grazie abbiamo cinque minuti allora vediamo se riusciamo a rimediare un microfono grazie voi siete troppo gentili se qualcuno vuol fare abbiamo tempo adesso sto guardando dieci minuti proprio adesso io cercavo di farne cinque se no fanno domande difficili dieci minuti abbiamo un po' di tempo per qualche domanda ne ho vista una qui e una lì o a voce urlando perché io ho il microfono oppure con no abbiamo vabbè ho domande semplici mi raccomando mi faccia fare brutta figura la domanda la domanda è semplice temo che la risposta lo sia meno ma interessantissimo il quadro che ha rappresentato devo dire fulminante a tratti e in generale complimenti davvero ma possiamo fermare qui grazie il design della tecnologia per come lo vivo professionalmente però non nasce più sui fondamentali della rete ormai è una tecnologia intermediata da aziende che hanno un obiettivo di profitto che hanno l'obiettivo di far lavorare gratis le persone mia figlia invece che seguire il suo interessantissimo intervento è rimasta ufficialmente per riposare ma in realtà trascorrendo buona parte del suo tempo lavorando gratis per un'azienda multinazionale americana e di fatto occupandosi di vedere vite da altri e in questo senso lavorando gratis appunto per questa azienda allora le centinaia di migliaia di vite perse dalle persone che utilizzano i social network che utilizzano questi strumenti sono un problema e un'emergenza tanto quanto probabilmente la non consistenza dei governi nazionali con il nuovo apparato legislativo che è necessario allora com'è possibile progettare tenendo conto del fatto che non abbiamo più queste pietre di base ma abbiamo già per così dire dei muri dei prefabbricati che inevitabilmente sono condizionati da questa impostazione economica che rischia di diventare un problema globale grazie noi non abbiamo concordata questa domanda ma prima di arrivare qui io stavo guardando una delle lapidi in piazza e una delle lapidi poi l'ho messo anche su twitter dice contrapponendo coraggio a rassegnazione quelli nei tempi della resistenza gente che mi permetterà questa battuta un po' volgare aveva le palle ecco è contrapponendo coraggio a rassegnazione allora come adesso cioè oggi ci vuole più coraggio ad investire in tempi lunghi in tempi che non ripagheranno questa generazione e quello è il coraggio il coraggio non è quello di fare cose per te è il coraggio di farle per gli altri sapendo che non le vedrai neppure c'è un governo un'organizzazione un'azienda che investe nel futuro nelle generazioni attuali che magari si dimenticheranno anche che i sacrifici li ha fatti questa generazione allora la risposta un po' retorica mi permetterà alla sua domanda giustissima è come se ne esce il circolo vizioso qualcuno lo deve rompere lo si rompe con coraggio e non aspettandosi un ritorno immediato qualcuno poi la storia la scriverà e dirà grazie ma noi non saremo qui a ricevere il grazie se avessimo quel coraggio il problema sarebbe risolto grazie 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 del suo intervento veramente molto stimolante la mia domanda riguarda l'assenza di leader nel mondo della politica se questo sia il risultato dell'arrivo del web che culturalmente in genere tende a non avere un unico leader ma avere una diffusione di approcci o sia uno specifico momento culturale mi viene da pensare che forse forse perché sono troppo ottimista si stia emulando ci sia una trasformazione della politica come è successo nella scienza non c'è più lo scienziato ma c'è un network di scienziati che lavorano per un fine comune c'è stata l'introduzione di questa giornata del festival della mente con una bellissima lexio magistralis proprio su questo la ringrazio anche questa bellissima domanda diciamo che sono largamente d'accordo con quanto lei ha suggerito e soprattutto sul chiamiamolo un po' di entusiasmo un po' di ottimismo sicuramente direi che forse l'unica osservazione all'atere di quella che mi sembrava più una domanda retorica ma sulla quale io sono concorde è questa attenzione a non farsi prendere dall'entusiasmo per la distribuzione del network o delle reti dove in realtà questa distribuzione poi è sempre coordinata wikipedia non è un contribuiamo tutti insieme eccetera quando poi voi ci lavorate sul serio come ha chiamato a me come jimmy wells e così via ha una struttura gerarchica che i marines li fanno un baff c'è una struttura assolutamente rigorosamente gerarchica di chi fa cosa quando come che riesce e questo è il vantaggio a portare dalla sua parte la potenza del contributo della elaborazione e quindi della parcellizzazione anche del sapere in un agglomerato ma qualcuno a un certo punto in cucina la cosa la deve mettere insieme allora direi al contempo sì la politica sta vivendo un periodo molto sicuramente un po' distribuito di frammentazione questa frammentazione può essere vista in maniera ottimistica come modularità come articolazione come network ma a un certo punto da qualche parte dovremmo ricordarci che poi un minimo di struttura un minimo di organizzazione cioè di leadership che non è più quella vecchia piramidale il capo sono io voi fate così eccola ma è quella che dice allora c'è questa parte qui c'è questo qua c'è questo qua torniamo al design come li coordiniamo tutti questi qui in maniera utile e soprattutto di chi sarà la responsabilità se le cose vanno male perché in un sistema network distribuito la cosa più facile da dire è abbiamo tutti merito quando le cose vanno bene poi però se le cose vanno male ad esempio c'è una crisi finanziaria o un qualunque problema vario di migrazione per esempio no è un network io non c'entravo niente era un no guardi anzi a Piazza Venezia quegli anni mai stato ecco allora questo è il problema cioè non non sottovalutare il valore del network ma non sopravvalutarne la non gerarchica gestione che a volte è inevitabile il bilanciamento tra i due secondo me sarà quello che vedremo con un po' di buona volontà e un po' di ottimismo al momento non stanno andando in questa direzione le cose per quanto riguarda il lab non si faccia illusione non c'è il lab in cui c'è democrazia i lab scientifici la democrazia non sanno come si fa lo spelling c'è il boss e si fa come dice lui basta quindi dalla scienza non vengono cose gli scienziati della democrazia non sanno dove sta di casa che ne dicano perché la retorica è un'altra storia allora ultimo giro di domande poi abbiamo chiuso ultima domanda una chi avrà il coraggio lì giù ecco giustamente essendoci arrivato fin da Roma prego una domanda velocissima anche io ringrazio per l'intervento siamo passati da una concezione di privacy come diritto ad essere lasciati soli e stiamo passando a una concezione di privacy più verso un'autodeterminazione informativa quindi io ho diritto a controllare che il contenuto le informazioni che mi rappresentino mi rappresentino effettivamente la mia domanda è alla luce delle dichiarazioni di Zuckerberg di qualche anno fa che ha detto appunto che il diritto ad essere lasciati soli la riservatezza è ormai un diritto obsoleto secondo lei esiste ancora un diritto un importante diritto ad essere lasciati soli per la formazione dell'individuo e quindi appunto per la crescita e la formazione dell'individuo brevissima un'altra domanda ha parlato appunto di sostanzialismo strutturalismo mi scusi come separazione tra chi detiene il potere e chi lo esercita quindi io che detengo il potere delego qualcuno ad esercitarlo però devo anche appunto controllarlo come può la tecnologia incentivare questo controllo da parte delle persone grazie allora io direi sì trasparenza elaboriamo sì il diritto alla privacy non solo esiste ma anzi oggi ce ne siamo resi conto che è una cosa importante noi l'abbiamo scontato per migliaia di anni non se ne è parlato perché tanto faceva parte della urfilosofia oggi sta davanti agli occhi di tutti e quindi è problematicizzato ergo si può fare un lavoro migliore invece che darlo per scontato il passaggio qui è avvenuto tra una filosofia dell'economia che ha visto il diritto alla privacy come un diritto quasi di possesso del tuo territorio cioè fin dagli ultimi anni dell'ottocento soprattutto nella tradizione americana il diritto alla privacy è il diritto a stare a casa mia e tu non entri c'è il cancelletto il cosiddetto diritto al trespass cioè se tu poi passi sono calo di tuoi perché questo è il mio spazio ma proprio alla far west questo che quindi va sotto un po' una filosofia dell'economia invece è stato trasformato si sta trasformando ma anche perché noi in Europa siamo all'avanguardia in questo Italia inclusa in un diritto alla privacy che non è più di tipo economico e di spazialità fisica ma è di tipo individuale cioè di filosofia della mente filosofia dell'individuo non filosofia dell'economia in termini di io sono le mie informazioni se tu entri in queste mie informazioni mi stai clonando non mi stai portando via stai prendendo un pezzo di me l'esempio semplice è che quando qualcuno parla al telefono a voce alta sul treno perché è un problema di privacy che c'entra perché sta entrando nel tuo spazio informativo ma non nel senso in cui sto entrando a casa tua ma nel senso che sto formatando dandoti informazioni che tu non vuoi non lo vuoi proprio sentire quello che fa lui la sera la tipa e invece allora in quel contesto la privacy in spazi pubblici è fondamentale avere l'idea che si tratta della individualità che noi gestiamo la gestiamo tanto meglio tanto più siamo in controllo allora il controllo delle proprie informazioni e il controllo della propria identità vuol dire essere in grado anche di cambiare idea su chi sono e chi non sono nel corso degli anni non vengo semplicemente irrigidito ingessato su quell'identità se è sempre lo stesso quella tipologia quel profilo questo è fondamentale e Zuckerberg stesso sta cambiando idea lo so perché non ve lo posso dire ci sentiamo di sera lui e lui ne discutiamo spesso allora sull'altra cosa molto velocemente trasparenza il governo cioè la cosiddetta governance che è separata da chi il potere c'è cioè dalla sovranità la sovranità e la governance sono separate ma la sovranità che gestisce la governance se la governance non funziona la sovranità si riprende il potere e lo dà a qualcun altro come può funzionare allora le tecnologie digitali dovrebbero aiutarci a noi non a creare un orribile democrazia diretta che è la dittatura della maggioranza ma a controllare quelli al quale noi il potere l'abbiamo dato allora la tecnologia digital diventa fondamentale perché la trasparenza la responsabilità la cosiddetta accountability dice se tu sbagli qualcuno deve pagare queste sono fatte attraverso l'informazione maggiore informazione più trasparenza più affidabilità tanto meglio io cittadina o cittadino posso decidere ora questo è tutto bello sui libri di scuola a teoremino tanto più ci si avvicina a questo ideale regolativo di tipo cantiano tanto meglio stiamo messi nella nostra società ma la direzione è quella che conta è la direzione che appunto il digitale è fatto per far funzionare la democrazia rappresentativa in termini di trasparenza non per dare potere a chi strilla di più perché quella è appunto una aberrazione del sistema democratico che non vogliamo avere e con questo vi ringrazio per la pazienza grazie grazie